Ehi tu, prima di guardare questo video premi sul tasto iscriviti e già che ci sei premi anche sulla campanellina per attivare le notifiche. In questo modo non perderai nessuno dei video che verranno. Inoltre al termine del video se questo ti è piaciuto lascia un like e condividilo con i tuoi amici. Hai fatto tutto? Bene, ora ti auguro una buona visione. Hello guys, bentornati qui nel mio canale. Come sempre sono il vostro Olimpico 900. Prima di cominciare a parlare del video di oggi, volevo mostrarvi il nuovo metodo per essere salutati all'interno dei video. Infatti dal video successivo saluterò le ultime 5 notifiche che mi arriveranno sulla pagina Instagram. Quindi vi lascerò il linkato qui sotto la pagina in modo tale che dal video successivo saluterò le ultime 5 notifiche. Quindi ragazzi mi raccomando cliccate qui sotto e mettete il tasto segui. Terminato il momento dello sponsor della pagina Instagram è arrivato il momento di parlare della notizia, quella vera, quella importante. Infatti ieri sono emesse tramite una nota di vista giapponese alcuni nuovi dettagli riguardanti appunto il film di Dragon Ball Super che andrà in onda, appunto verrà trasmesso nei cinema a partire dal 14 dicembre di quest'anno. Bene, partiamo dalla cosa forse meno eclatante, quella che diciamo dà un po' meno nell'occhio ovvero il nuovo character design di Goku e Vegeta. Goku lo avevamo già visto all'interno del trailer mentre per Vegeta ancora e sinceramente non avevamo visto nulla. Cambia relativamente molto poco, nel senso ci sono veramente, sì cambia lo stile grafico, lo stile di disegno però più o meno siamo sempre lì. Quello che dà nell'occhio è l'immagine che hanno pubblicato che sono praticamente loro due con le vesti invernali addosso. Praticamente niente di che, una giacca per quanto riguarda Goku e una specie di trench per quanto riguarda Vegeta. È facile capire il perché, insomma abbiamo visto tramite il trailer che appunto la nuova location comunque la location probabile che dove dovrebbe avvenire lo scontro con quello che molti credono essere dei Yamoshi avverrà appunto in una landa ghiacciata e quindi un outfit invernale ci sta bene però non è che faccia così veramente tantissima notizia, insomma anche chi se ne frega potevano anche non metterlo e farcelo vedere direttamente nel film però, ragazzi, sono comunque piccoli dettagli che ci vengono offerti pian piano che ci avviciniamo al giorno del film. Quello che veramente fa più notizia, secondo me, è che non sono gli unici personaggi che sono stati rivisitati dal livello appunto del design perché c'è anche Freezer. E qui che vorrei aprire un po' una parentesi in questo video era veramente necessario in un film dedicato a Dragon Ball Super del 2018 ripescare per l'ennesima volta un personaggio come Freezer? Mi spiego, ragazzi, io sono un fan, un fan spiegatato di Freezer, mi piace soprattutto dopo averlo visto al torneo del potere, veramente il mio apprezzamento per lui è aumentato ancora però qui si parla di un nuovo film, si parla di un nuovo nemico, si parla di un qualcosa che comunque non si era mai visto quindi non so se era effettivamente giusto ripescare ancora una volta un personaggio come Freezer bisogna fare però anche alcune considerazioni logiche che effettivamente potrebbero in qualche modo giustificare la sua presenza all'interno del film la prima domanda che bisognerebbe farci è in che veste apparirà Freezer nel senso sarà ancora una volta uno stronzo che andrà contro ai Saiyan oppure seguirà la falsa riga del torneo del potere e pertanto sarà una specie di alleato durante questa battaglia questo non lo sappiamo è più facile ipotizzare comunque la seconda ipotesi rispetto alla prima anche perché comunque il nemico sappiamo essere un Saiyan potentissimo antico quindi non credo che ci saranno due nemici all'interno del film pertanto secondo me uniranno ancora le forze all'interno di questa battaglia e soprattutto comunque essendo un film che va a parlare delle origini della razza Saiyan sappiamo perfettamente quanto questa razza sia legata in qualche modo sempre alla famiglia Freezer comunque alla famiglia dei demoni freddi che sia Freezer o che sia comunque un suo qualche antenato sappiamo che hanno questo destino in comune e che quindi si interaggiano molto spesso quindi perché no raga potrebbe anche essere che effettivamente parlando appunto di Yemoshi comunque dei Saiyan antichi in qualche modo Freezer sia collegato e che quindi appaia per forza di cose anche proprio a livello di trama se questo non dovesse accadere beh sarebbe l'ennesima forzatura nel ripescare l'ennesima volta un personaggio comunque sia amato dai fan che però insomma poi si rischia di perdere una buona occasione magari per parcheggiarlo momentaneamente concentrarsi su qualche nuovo villain o comunque ripescare anche qualche altro bel personaggio nel mondo di Dragon Ball perché veramente ce ne sono tantissimi altri che meriterebbero comunque quantomeno un cameo ogni tanto e staremo un po' a vedere comunque ritornando al discorso della caratterizzazione dei personaggi abbiamo visto che anche Freezer subirà una specie di restare grafico così come a questo punto seguirà tutto quanto il film onestamente cambia veramente poco io ho visto l'immagine comunque mentre parliamo vedrete l'immagine cambia relativamente poco anche per lui però insomma fa sempre la sua porca e bella figura vederlo Freezer ovviamente sarà accompagnato dal suo esercito in questo caso i tre rappresentanti dell'esercito vado a leggere ragazzi perché non mi ricordo i nomi sono Kirai che è la donna quella con la pelle verde e i capelli argento poi abbiamo Remo amico di Kirai e Kikono che probabilmente sarà quello piccolissimo che è quello più piccolo che vedrete lì insomma un po' quello che era praticamente credo si chiamasse Sorbet all'interno della resurrezione TF quello mino piccoletto che voleva riportarlo in vita ragazzi non mi ricordo i nomi in questo momento ho tantissima confusione insomma non è che ci viene mostrato chissà che cosa all'interno del nuovo film di Dragon Ball Super che per il momento è un bene assoluto perché comunque ci evita di spoilerarci troppo prima dettagli importanti riguardanti il film e quindi io devo dire che ben vengono queste notizie mi auguro mi auguro che nelle prossime settimane venga fatto un focus anche sull'enigmatico nemico che dovranno affrontare Goku e Vegeta durante questa battaglia veramente abbiamo bisogno di conferme bisognerà capire se effettivamente si tratta di Yamoshi o se quantomeno si tratta di qualcosa probabilmente sarà Yamoshi però la curiosità rimane sempre bella attiva ragazzi questo piccolo video termina qui perché era più un video di informazione che peraltro quindi se vi piace la cosa lasciate un like e iscrivetevi al canale comunque sono sempre qui sotto a rispondere ai vostri commenti e alle vostre domande riguardanti appunto questo video e ricordate se volete essere salutati andate a mettere mi piace sulla pagina Instagram noi ci vediamo al prossimo episodio hello guys ciao